A noi italiani piace particolarmente scimmiottare tutto quello che si fa negli Stati Uniti, senza nemmeno renderci conto a volte che quello che fanno è una cosa che ha avuto le sue origini in Europa. Pensate un po' alla festa di Halloween ogni anno, apriti cielo e spalancati terra, queste usanze americane, ma che americane americane? È una festa europea che non si può più, è una festa che viene festeggiata dalla notte dei tempi in tutto il mondo cristiano ed è la festa di ogni santi che poi è arrivata negli Stati Uniti, ha cambiato nome, ce l'hanno rimpacchettata e ce l'hanno rimandata a casa. Ecco, ora ce la stiamo mettendo tutta per iniziare anche noi a scimmiottare la festa del ringraziamento, Thanksgiving, che questa sì è una festa tutta loro, se la sono inventata i padri pellegrini che erano scappati nel nuovo continente per questioni religiose, come sempre eccetera. Ed è un momento a fine novembre quando si ringrazia per il raccolto e quindi per estensione anche per tutte le cose positive che si sono ricevute. Comunque lo conoscete anche voi perché se avete mai visto un film americano ambientato in quel periodo si vede tutta la famiglia intorno al tavolo, ringrazio per questo, ringrazio per quest'altro. Ora, subdolamente, secondo me, si sta insinuando anche questa cosa qua da noi. Io ricordo uno spassosissimo episodio di quella fantastica serie, che più che una serie televisiva è un documentario, sì, sto parlando di Boris, dove gli sceneggiatori rubavano a destra e manca le storie scritte in inglese che in Italia non si conoscevano e per riadattare un episodio ambientato in America il giorno del ringraziamento avevano tradotto la festa del grazie. Quindi saranno inventati questa cosa qua. Secondo me, subdolamente, la festa del grazie, durante la quale si mangiano i piccioni, si sta subdolamente infilando anche nelle nostre tradizioni. Perché? Sì, perché ci piace scimmiottare tutto quello che fanno da quella parte. Ci sembra che sia chissà che, lo vogliamo riproporre noi. A noi capita anche con molti vocaboli. Il famoso summit è scritto summit perché è una parola latina, che però a noi faceva schifo quando era solo latina, però ci piace un sacco. Ora che è diventata una parola inglese, noi l'abbiamo riassorbita nel nostro linguaggio e parliamo di summit, riferendoci al latinissimo summit. Non lo so perché ve lo sto raccontando. È un'ispirazione che mi è venuta stamattina. Volevo augurarvi una buona festa del grazie, visto che si comincia anche già a parlare del momento del noi.